Come ci può aiutare il BES a capire meglio quale futuro costruire per il nostro paese? Il BES è fondamentale perché dobbiamo cambiare occhiali per misurare il nostro benessere. Quando compriamo una macchina, scegliamo una casa, non guardiamo solo al prezzo, guardiamo a tanti indicatori, la posizione e tante altre cose. Lo stesso dobbiamo fare col benessere. Il benessere è fatto di molte dimensioni. La salute, la qualità della vita, la qualità dei servizi, ciò che vediamo da casa nostra, quindi il paesaggio, il territorio. Tutto questo il BES lo misura e cerca anche di capire quale sono le correlazioni tra le varie variabili. Quindi dobbiamo in futuro usare il BES anche per fare una valutazione di impatto dei progetti di legge e vedere non solo l'effetto sul PIL ma l'effetto su tutte le dimensioni. E capire anche i trade-off, i dilemmi che ci sono. Se tagliamo la sanità, cosa succede al PIL ma cosa succede all'aspettativa di vita in un momento in cui la nostra salute, sappiamo, dipende moltissimo in età adulta, da quanti farmaci possiamo consumare.